Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio spiegarti come ottenere il calcolo analitico delle superfici in Archicad. Come puoi vedere ho una planimetria con una serie di zone inserite in ogni ambiente. Una volta che hai inserito le zone, se dal menu documento alla voce extra lista vai a richiamare la lista area, Archicad ti apre questa finestra dove avrai la possibilità di andare ad effettuare delle impostazioni relative ai dati da far apparire all'interno della lista, a come la lista deve essere presentata, all'ordine della lista con la possibilità di visualizzare il piano, la categoria di zona, il numero di zona e il codice id della zona e altre informazioni relative all'aspetto grafico e alle categorie e ai piani da listare. Se vado a cliccare su Genera, Archicad va ad aprire un pannello dove all'interno viene automaticamente creata la lista delle superfici con l'analitico della superficie. Come puoi vedere ogni zona viene suddivisa in figure geometriche. Nella parte di destra abbiamo il calcolo analitico di ogni singola figura geometrica. Può risultare interessante poter utilizzare la stessa tecnica nel caso in cui devo andare a effettuare il calcolo analitico di un terreno. Se vado ad inserire una zona, in questo caso do il nome terreno e la vado a inserire, magari anche con una forma che potrebbe essere curva, Archicad automaticamente calcola la superficie. Nel caso in cui ho, ad esempio, un edificio all'interno per cui voglio eliminare dal calcolo del terreno l'edificio, ho la possibilità di andare a bucare la zona. Io ora ho la zona selezionata dal menu documento. Vado a richiamare extra lista, lista area. Appena genero la lista delle aree puoi vedere che la superficie totale viene calcolata, con tutti i calcoli del caso. Viene calcolata anche la superficie del foro, che nel mio caso appunto è l'edificio, e nella parte bassa puoi vedere che abbiamo il calcolo della superficie andando a sottrarre dall'area totale del terreno l'area del foro.